Benvenuti allo stand Dinafit, quest'anno ISPO 2012 presentiamo il nuovo scarpone One Novità nel segmento che si inserisce fra la gamma TLD5 e la ormai collaudata Z0 Questa scarpa si propone in due versioni, scafo in PEBAX e in voliuretano, due versioni da uomo e due versioni da donna Caratteristica principale è un ottimo comfort di calzata, scarpetta termoformante, tre ganci Abbiamo spostato il secondo gancio in diagonale più arretrato per consentire un miglior blocco della gamba, soprattutto in discesa Sempre un'ottima escursione in salita che lo rende una scarpa decisamente comoda, confortevole anche per salite di dislivelli importanti Grazie a tutti!